Ciao a tutti da Barbie Mare da Paolo Mare Paolo Mare sei ormai un giro a me Quindi vi facciamo Ciao a tutti da Barbie Mare da Paolo Mare Ma no Andiamo avanti Allora intanto vi diciamo che stiamo riprendendo la giornata di oggi quindi stiamo facendo un vlog pazzesco e adesso abbiamo pensato di scaraventare la spesa che abbiamo appena fatto vero amore? Scaraventiamola Ecco allora loro si domanderanno ma cosa vuol dire scaraventare questa spesa? Scaraventare Quindi lanciarcela Lanciamoci Lanciamoci questa spesa Cos'è che vuoi iniziare? E allora però prima abbiamo pensato di farvi vedere delle chicche straordinarie fatte dalla mamma e dal papà di Paolo Che sono amore? Che sono due Semplice confettura di pesche di quest'anno Due baratoli che mi servono per fare una crostata domani a lavoro Sì Sì vabbè in pausa Abbiamo anche la pausa pranzo per fare una crostata E quindi domani andrà mangiata E gusto? Pesche Tutte due pesche Sì Tutte due Le fanno tante E sono buonissime perché i suoi genitori sono bravissimi E allora iniziamo Vai amore mio Ci scaraventiamo tutto tranne ovviamente le cose fragili cioè le cose imbottigliate nel vetro Voilà Lancia vuoi Allora Tacchino Pesa a fette Questa venti Guardiamo un po' Questa mia è caduta Questa mia è caduta Allora Due sacchettini di gram mix della Ferrari Quindi formaggio grattugiato Quindi formaggio grattugiato Questa è una marca che magari si trova dai discount Di pancake buoni Vi chiedo gentilmente di segnalarmela tra i commenti Perché in realtà questi costano un botto ragazzi Due euro e cinquantanove E sì lo so Non mi rimproverate Lo so che ci vogliono solo pochissimi ingredienti E pochissimi minuti per fare i pancake in casa Ma io non ce ne ho voglia E quindi li compro già fatti Tra l'altro questi sono confezionati In monodose Perché all'interno di ogni sacchettino Ce ne stanno due E io amici miei Ve lo dico sinceramente Adoro le comodità Quindi io i pancake li voglio già belli e pronti E siccome che mi piacciono tanto Fino ad ora non sono riuscito O perlomeno non mi sono azzardato Ad acquistare le sottomarche Perché ho paura che poi puzzino di uovo Vi dico la verità Con il calore Invece queste non puzzano Quindi se avete qualche sottomarcha da suggerirmi Apprezzo volentieri Perché ho voglia di andare a provare un altro marchio Per pagare meno Ed avere comunque lo stesso gusto Roba naturale Roba nutriente Fantastica Voilà Monodose di Nutelline Una volta Non so se voi vi ricordate Insieme a queste vaschettine Che costano praticamente 6,1 euro e 39 Davono anche in omaggio Tipo quei bastoncini Palette In plastica Che usavamo per mangiare la Nutella Non le danno più Stop Io ho guardato Ho controllato in tutti Quelle espositori in carta In cartone Ma niente da fare Comunque Eccole qua Adesso però amore mio Dobbiamo fare cambio di campo Ancora un po' Ancora un po' L'ultimo 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 Non c'è il mano Vai L'ultimo Niente L'ultimo Non vuole Ma adesso dopo questa Sì Vai Vai Oh mamma mia Allora Cassettine in cartone Con all'interno Ben 6 brick di estate Alla pesca Qui ancora ci mettono le cannucce Di carta ormai Ormai ne fanno di carta Esatto Che sei? Hai fatto quel segno Spurcata Ok bravo Scusate Sempre il solito E il jumble che Ok E quindi Tre cannucce di qua E tre cannucce di qua Di carta va benissimo Però almeno ci stanno Sì In più delle volte si piegano Esatto Questi li abbiamo pagati 1,69 euro a Cris Quindi 1,69 euro per due Allora tocca a me Bravo Vengo io Vengo Non so che è meglio lei Vabbè Non ci sono anch'io No perché Magari si può provare A me viene tutto il formaggio Eh Ora te il gancio malissimo Così puoi seccare Il corpo al bovero Allora Quindi Sai prenderlo bene Assolutamente 1,2,3 Evviva Questa latte Fresco Di montagna Buono Intero Il prezzo forse si è cancellato Prezzo forse si è cancellato Classificato Ma me lo ricordo Viene 1,84 Esatto Bravo 1,84 Questo è intero Però quello là di marchio Dentro quello della coppia Eh sì Fior fiore della coppia Prodotto di montagna Ok Non di E poi un altro marchio di latte Sei pronto amore? 3 2 1 Voilà Bravissimo Questo è il granarò Parzialmente schremato Questo l'ho preso Per fare la besciamella Esatto Mi serve la besciamella Devo farla Quindi abbiamo preso Un litro di latte Parzialmente schremato Buono eh Buono Tra parentesi Lui non adora la comodità Infatti la besciamella Se la fa Io l'ho sempre comprata Già fatta Sempre al prezzo Di 1,84 Anche quello Mi sembra Sì No Sì Forse un 10 centesimi Di differenza Ma va bene Sempre un litro Ora cosa ho da scarabentarti Quì No roba di vetro Che se sbagliamo In retta però Sarà una cosa bellissima Eh sì 1,2,3 1,2,3 Vai Con una mano tu Ah c'è 3 succhi di frutta Sempre marca Coop E Ah c'è Arancia, carota, limone E il prezzo si canceva? Al prezzo di No 1,49 3 Senza sconto 5 centesimi l'1 Eh senza sconto Però va bene Sì sì Tutta roba E 1,2,3 Un'altra chicca Di Di genuinità 1,2,3 Tocca a me O tocca a te Tocca a te Voilà Nesquik 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 Quanti Quanti ci sono cresciuti con questo Ci siamo cresciuti con Non tutti Anche io Tanti Tanti Da mettere nel latte Buonissimo Il latte di fruttosto Al prezzo di 2,49 Ed era la confezione Da La più piccola 250 grammi Ragazzi Ok Manca ancora te Sì dai L'ultimo L'ultimo E noi che ti devo lanciare Non c'è più nulla Che ci rompe Ah sì sì Qua Qua Ok Dai vieni Questo è uno spin Va bene Non fa niente Abbiamo Siamo andati in missioni In dei supermercati Ma va bene È uno spin Quindi è l'altro Che era la coppia Va bene Voilà Bravissimo L'hai preso però Per il miracolo Lo volevo al tonno L'ho preso a salmone Alla fine Ti sei accorto ora Sì Hai sbagliato Ma in mano ce l'avevo al tonno Ragazzi Ma come è possibile Vabbè Io non lo so Infatti è più buono il tonno 1,29 Ma in mano ce l'avevo al tonno Ma se l'avevo portato a casa La salmone Qualcosa è successo Se l'avevo al salmone Dai 1,2,3 Poi a me non diramci niente Perché si rompe tutto 1,2,3 1,2,3 Ma non fare il duro Solo con una mano Vai com'è Dai Lancia Sai un uomo Lanciare 1,2,3 2,4,3 Ah Io volevo che cadesse Ketchup Marca Delizia sa Delizia solo Delizia del sole Forse No sì Delizia del sole Ma io sono un po' ciecato Quindi il del che è scritto Chi è che non legge del Assurdo legge del Comunque Ketchup 560 grammi Non è malaccio Poi sono tutti uguali 1,39 Poco Poco Dai c'è ancora questo affare Che me lo vuoi lanciare Dai Adesso Rivo da là Di nuovo Gang di campo 1,2,3 Ma no Io 1,2,3 Io lancio E via Voilà Succo di frutta Ananas e cocco Puerto sol Al prezzo di 1,29 euro Un litro Una volta prendevamo quello Dentro anche il latte Ma poi Qualche goccia di latte Ma Poi basta E quindi Perché Cocco e mango Sa di Lo possiamo dire Pipì di gatto Si può dire Si può dire Si può dire Puzza di pipì di gatto L'altro Cocco e mango Eh Cocco e mango Più latte Con qualche goccia di latte Lascia a perdere Puzzolentissimo Questo invece Non è puzzolentissimo È profumatissimo Vai Amore Lanciamo subito Questa Vai Voilà Questo è per me Eccoli La cola Della blues 30 32 centesimi Qualche mese fa Veniva a 29 centesimi Vabbè Quanto vi è scritto il prezzo Vai Questa veniva a 45 45 centesimi La limonata Per Paolo Per Paolo Mare Poi adesso bisogna Portare qualcosa a mano Perché se accade Facciamo un disastro Tieni Grazie amore Nutella Con la lettera M Da 750 grammi A 5 euro E 99 Questa Si sposerà Con i pancake Ecco la La coppiata Vincente Cos'altro hai di buono Amore mio Questo è mio Questo è tuo Questo è un cocktail Tutta roba che fa bene Tra rum E orange 99 centesimi 275 ml Voilà Poi amore mio Questo Grazie Ce ne due Ce ne due Il bis Due come noi Vieni amore Ragù di carne Alla bolognese Eh ma qua Qua anche possiamo dire Anche questo Aspetta che alziamo un po' 1 euro e 78 A barattolo Allora ho preso Ragù alla bolognese Perché in teoria Di solito Lo faccio sempre io Ma visto che poi Mi mancherà il tempo Si lo facciamo noi Che però poi Mi mancherà il tempo Sempre poi Da abbinare Alla besciamella Che avete ben capito Cosa poi ci faremo Passa al forno La classica La buonissima Ecco Ho già preso il ragù Fatto ragazzi Perché a questo punto Ti piace la comodità Ecco Come finalmente Anche a noi Mi piace la comodità Ho fatto ieri Del ragù Col macinato Di tacchino Che l'abbiamo fatto vedere Nell'altro video E' vero E' molto molto buono Buonissimo Pomodoro Cipolla Soffritto di cipolla Pomodoro Carne Un po' di vino bianco Ma tu lo sai Che chi ci segue Ti vuole vedere all'opera Che ci hanno già richiesto Tra i commenti Che vogliono Che dimostri Che mostri loro Una ricettina Vabbè ma Ti vogliono vedere all'opera Faremo dai Faremo una ricetta Comunque niente Era guola Fino l'ho preso Già fatto Ok I sacchetti sono tutti vuoti Amore Eh si Ok Ci sono i sacchetti Adesso E allora Non ci resta I sacchetti vuoti Non ci resta Tre ringraziarvi Per la compagnia Che ci avete fatto Allora Ho da suggerirvi Tre cose Importantissime Uno Iscrivetevi Al canale Mi raccomando Se ancora Non siete iscritti Due Lasciate un bel like Se ancora Non avete Piggiato Su quel pollice All'insù E tre Attivate le notifiche Perché ragazzi Io si Ve lo dico Anche su Instagram Quando vai online Un nuovo video Però Attivate le notifiche Così almeno YouTube Vi avvisa Ogni qualvolta C'è un video online Quindi questi sono Tre suggerimenti Che vi faccio Accoglieteli Metteteli in pratica Grazie di tutto Ci vediamo Al prossimo video Vero? Certo Quindi Mi raccomando Non mancate Al prossimo video Perché avete Un appuntamento Con Barbie Mare E Paolo Mare Ciao a tutti Grazie Baccio Ciao 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 Ciao